Un signore romeno stava procedendo in sella la propria bici contromano lungo via Giovanni Falier quando all'altezza dell'incrocio con via Rocca ai fossi è sbucata un Apollo guidato da un altro uomo di origine albanese che l'ha urtato facendolo cadere a terra. Il ciclista ha sbattuto violentemente la testa ferendosi al capo ed è subito stato soccorso dall'automobilista che ha chiamato il 118, arrivato sul posto con un'ambulanza e l'automedica. In realtà le condizioni del romeno sono subito apparse meno grave di quanto previsto. In ogni caso l'uomo è stato portato all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità. Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le volanti della polizia municipale per i consueti rilievi. Agli agenti l'automobilista ha ripetuto più volte di essersi fermato allo stop dell'incrocio e di essere ripartito solo dopo essersi assicurato che non provenisse nessuno da destra ma di non aver pensato che qualche ciclista potesse arrivare contromano.